Ciao a tutti, sono Alexander Dario e benvenuti in questo nuovo riassunto di una partita su Dota 2. Questa volta sono in compagnia di nuovo di Kratos e di Scotti, più altri due, diciamo, random guy trovati in rete. Buon divertimento! Mancavano 16 minuti perché cambiasse la sfida giornaliera, mannaggia. A saperlo aspettavo 15 minuti, almeno sapevamo qual era l'eroe nuovo. Vabbè, vabbè nello stesso. Clint, Slark, troppi eroi in... Caga cazzo. Ho preso Zeus per gli eroi invisibili, eh, visto che ne abbiamo contro almeno due. Ah, già che adesso con sto tasto vedo tutti i campi, che ero attura di scatole. No, hai visto che abbiamo? Sono arrivati. Ma almeno male, almeno io li vedo se vanno invisibili questi due. Ah, giusto. Ma fa male, fa. Eh sì che fa male. No, 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 aiuto. Vai, vai, guarda. Morto. Ottimo. Ho finito il mana, devo comprarmi la bottiglia il prima possibile. Allora, la posso comprare anche qua la bottiglia, vero? Se ricordo bene. Sì. Sì, infatti. Ok. Solo con una carica, ma meglio che niente. Va a prendere la runa. Eh, non so se c'è. Tra un po' dovrebbe rinasce. Sì, sì, tra 27 anni. Almeno ne trovi due, magari. Ah, se non sono andati a prenderle loro, in effetti. Davvero? Non sono andati a prenderla, non ci credo. Eh, per questo, vai, vai, ce n'hai due adesso. Meno male, dai, ti ha detto fortuna. Attenta, eh, sono lontano. Vai, Zeus! Ghiaccialo! Ah, un colpetto. Ok. E' questa da te, non tavolo rubà. No, no, ma prendila, prendila. Sennò sei un sottotorro. Mi hanno rischiato di... Di fare una brutta fine. Senti, cosa dice? Interrupt 5 enemy heroes during a channeling spell. Eh, sì, interrompe 5 nemici durante la canalizzazione. A channeling? Spell. Sì, sì, sì. Allora sì, devi fare... Una abilità canalizzata. Tipo, ha canalizzato anche Eligma, ha canalizzato anche... Bane, l'ultimate. Bane, sì. Eh, c'è Sanon, anche la canalizzata del Sand King, sia l'ultimate che... Eh, sì, esatto. Poi c'è Pugna, e la canalizzata di, come si chiama, Lion. Eh, esatto. Anche quando trattiene Shaman, che canalizza l'acci, le catene. Il problema è che qui nessuno di loro mi pare che abbia... E anche la cosa, la Crystal Maiden, l'ultimate. Ah, anche la è ultimate di Crystal, sì. No, qua purtroppo non c'è... Vai! Ah, mi sta clean. Eccolo. Hai visto, sta qua? Sì. Io ho l'ultimate. Sì? Ottimo. Io non ancora. Sì. Devo fare ancora un paio di creep. Sì, vabbè, ma questo sniper è scarto, dai. Ma come si può? Ma stai morendo, cavolo? No, sono senza mana, cazzo. Vado a farmi gli stivali, va, già che ho i soldi, così... E recuperiamo un po' di mana. Ottimo. La sede errorissima, finiscono mai. Cazzo. Oh no, ma tanto il mana! Bella. Scappa, che magari c'è clean. Cerco di coprire. Ho rischiato. Sì, sì, ma hai fatto bene. Ok. È vivo! È vivo! Chi è vivo? È Gerra Badda. No, il presidente. Il presidente. Sanno a vedere attacco al potere 2. Hanno fatto il 2 di attacco al potere. Sì, ma c'è una trilogia, pensate, ma c'è pure il 3. Una trilogia? La più solta è in Italia. Magari poteva essere attacco al potere in Italia. Una volta tanto. Uh, double damage. Devo ultare? Ditemelo, eh, che ce l'ho in canna. Io sono top, ma se vi serve che ulto... Tipo così. Se lo ghiacci... Voilà. Brava. Bella combo. Dai che ci facciamo pure quello lì. Eh, sono di uno senza mana. Eh, devo crescere un po' di livelli prima di poter essere completamente indipendente. Attenzione che c'è qualcuno che ci sta seguendo. Vieni. Venite qui. Come si pulla. Cataccia sua. La torre è caduta. Possiamo spostarci ora. Occhio, occhio, occhio. Occhio, occhio, il rosa, è rosa. Ghiaccialo. Qua. Ma è proprio sce... Sono scemi questi, o scusate? Siamo capitati qui. Oh, stiamo troppo in gamba, non possiamo essere in gamba, vieni, facciamoci questo. Eh, non ho mana. Ti uccide. Stiamo troppo in gamba. Ah, ma tu dovevi vedere prima come si suicidava il sniper, veniva ad affrontarmi come se doveva essere giusto. Attento che c'è Slark, spostati. Sì, sì, ma... Tu, piuttosto, vatti a curare. No. No, guarda che ti dà una freccia di fuoco e sei morta. Ma sto qua sotto. Ah, per randini ti il mio tango, tanto io non lo uso. Toh. Fammi andare via, va. No, ti serviva il tango. Vabbè, ma vado in base, va, così almeno mi rifullo di mana e di bottiglia. Bella ti mette. Ho bisogno di prendermi a bottigliate. Intanto sotto la nostra Phantom Ass se ne sta farmando alla grande, spero. Stare tutti in top è brutto. No, no, adesso vai, invece qui ci siamo, guarda, guarda. Ehi, Crystal, guarda, sono tutti lì in top. Eh, lo so, muo, sotto un'erame da strada. Ma va a cagare. Mi ha ghiacciato. Cioè, mi ha ghiacciato. Mi ha bloccato in padella sto... Se non mi metteva nella trappola, io mi salvavo. No, non me lo fa qua. Cioè, che altrimenti... Perché devi fa? È proprio stupido, l'avevamo ammazzata. Che è un ladro. Non è bravo perché ruba i kill. Sei un ladro. Un po' all'altro, però, eh. Come fa? Eh, l'embers è disconnesso. Ma credo sia raggiato fuori. No, guarda, ultimamente ci stanno molti lag. A voglia. Ma ogni tanto c'è sniper con la ulti, così. A caso. Il corriere, il corriere. Dove sta andando il corriere? Vedete che figata che hanno messo il delineamento dei campi? Ma non mi fa impazzire, sinceramente. Avrei preferito che se lo risparmiassero. Però, bene. È comodo. Se vuoi piazzare una ward che non si veda. No, che non fa rinascere i creep neutrali. Non fa la ward che non si veda. Ma che ci pensano anche a piazzare le ward a momenti qua? Cioè, per dire, ti non dici di questa partita in generale. Nessuno pensa a piazzarle. Beh, ma perché guarda come sta andando, dai. Non ce n'è bisogno. Ma non dico qua, no, dico in generale in tutte le partite che hai, raramente. Guarda che mi ha messo nella trappola per non farmi prendere a me la stit. Guarda che stronzo. Parfetto. Che bastardo. Beh. Aspetta che la prendo anche io il bastone della forza, vedete? Perché lo spingo dal nemico lo spingo. Ridi, ridi. No. Eh. Pule di fare i cretini. Ci rimane da. Sì, vabbè. Ho tornato indietro. No, l'ha preso invisibile. Finiscila, che poi la torre targhetta me. Cazzo di... E' una rispettosa. Ah, minchia, è già due volte che... Bene, dai che ce l'abbiamo praticamente fatta. Aia. Questa è una partita proprio aperitiva. Facile e facile, sì, sì. No, guarda un X-Assassin. Come si permette? Bravo. Dai. Dai, dai... Vabbè ma non c'è nemmeno gusto a giocare così Vabbè io lo reporto Basta mi ha stufato Di nuovo morto per colpa di E cazzo mi continua a spingere sotto le torri Cioè son morto di nuovo Io non me l'aspettavo Son finito in mezzo alle torri Poi fa ste palle E quando serve non ne fa Me le poteva inglobare invece no Si sta divertendo Si no è bravo però cazzo Se magari non mi facevi morire Hanno abbandonato tutti Ok Bene Facile facile